Se vuoi ancora un po', fai calmo, concentrati, ma ti mollo, vedi, 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 lascia perdere, dai, puoi tagliare, Non so, vedi, 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 vedi. Ma non ti piace, ma non ti piace, ma non ti piace, ma lì, ma devi tagliare, la porta di là. Eh, la merda. Grazie a tutti. 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 Trovate ogni cosa c'è una soluzione, la troviamo sempre. L'importante è aver voglia. Quella è la prima cosa, assolutamente sì. Comunque complimenti a tutti, veramente bravi. Vi seguo sempre ogni anno, questi erano due anni che non lo facevate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.